Misure alternative al carcere in strutture che attestavano percorsi rieducativi in realtà mai avviati. Per questo la Guardia di Finanza di Pavia è eseguita a partire da martedì mattina un'ordinanza di interdizione dall'esercizio di ogni attività emessa lo scorso 22 marzo dal Tribunale di Pavia nei confronti della Unicum Cooperativa Sociale Onlus. Il provvedimento fa seguito alla sentenza con cui lo scorso 21 febbraio sono stati condannati con appena da un anno e dieci mesi a tre anni e quattro mesi di reclusione il Presidente, alcuni membri del CDA e alcuni soci della cooperativa per essersi questa l'accusa. Fa sapere una nota della Procura di Pavia illecitamente associati al fine di compiere un numero indeterminato di episodi di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Secondo la sentenza non ancora definitiva sarebbero numerosi i detenuti che per quasi un bienio hanno indebitamente usufruito delle sostituzioni delle misure cautelari carcerarie a loro applicate o di applicazione di misure alternative alla detenzione trovando alloggio presso strutture che attestavano percorsi rieducativi e assistenziali mai concretamente posti in atto.